ovviamente non mi potevo far mancare anche il giro in tram consigliato dalla guida il numero 7 che praticamente porta a scansa più o meno ho seguito quasi tutti i consigli dati dalla guida da lì ieri ho preso il battello quello che vi ho fatto vedere nel video queste sono le fermate e di qua ti fai tutto il giro costo costo tra le varie coste qui si può notare quello che ieri facevo vedere in foto uno scorcio del sabato mattina di stoccolma partiti col sole e si è subito annuvolato c'è un meteo qui incredibile ci sono già le file però su alcune cose però c'è da dire che carburano tardi la mattina eccola questo era il punto di ieri dove tra l'altro ho fatto anche la carta questa attivando il biglietto delle 24 ore proprio classico consiglio per i turisti certo per chi sta più giorni c'era anche la possibilità di fare tre giorni e lì veramente sfruttavi tutto in pieno e largo è una vita c'è ma qualcuno lo devo fare che posso dire adesso calma è tutto adesso ripartiamo guarda quanto è bello questo se me lo fa vedere guarda che mezzo guarda come direbbe qualcuno molestissimo che cavolo è quello pazzesco ah quello è quello che va in acqua è quello che va in acqua quello è il pulmone dell'acqua pazzesco guarda pazzesco ma sarà così